Io vi chiedo di fricciare le mani con il gel idroalcolico, giusto là? Disinfettarsi le mani, non dare da mangiare a gatti e non svegliarli se dormono, scattare foto senza flash. Ad ogni persona che entra, Margot elenca le regole della casa. Il bar dei gatti, il primo a Parigi, il terzo in Europa, è diventato in appena tre settimane un luogo molto ricercato e infatti è tutto esaurito fino al mese prossimo. Il telefono squilla continuamente, ma è impossibile trovare un posto. Insomma, sembra che a Parigi nessuno possa più fare a meno di bere un succo di frutta o mangiare un'insalata senza giocare o accarezzare un gatto. Ce ne sono dodici che scorrazzano per il locale, arrivano dall'Associazione Protezione degli Animali. Ognuno di loro ha una piccola nota biografica che viene data ai clienti insieme al menù. Il caffè dei gatti è concepito per essere coerente con la natura dei gatti, quindi un luogo calmo, relativamente silenzioso, simpatico, dove si viene con gli amici, ma si fa anche amicizia con gli altri, perché uniti dalla passione per i gatti. D'altronde si sa che le fusa del gatto non solo rilassano, ma alcuni studi sostengono siano curative. Probabilmente un locale del genere in città come Roma, dove gatti per strada certo non mancano, non avrebbe un grande successo. Ma per i boulevard di Parigi di Maci non c'è nemmeno l'ombra.